Si pronto sono io il dottor Trancarotti, si mi dica pure? Si deve fare un eco? Si l'ho già fatto io, mi lega la ricetta? Tagliare la pacchetta? Cubetti cuocerla a fuoco, no quella è la ricetta da carbonara, si, ah non la mangio più, non mangio più, non bevi più, non fumo più, cos'è la pressione alta? Ah no, la pressione bassa, quanti anni ha? 93, direi che ci ha mangiato abbastanza, si, poi ha male un testicolo? Si sarà l'età, all'altro la stessa età ma non gli fa mica male? La posso mandare da un urologo allora, cos'è l'urologo? L'urologo è uno che glielo guarda, glielo gira, glielo prende, insomma glielo mette un po' a posto, si visita privato sui 2, 250 euro, si, ah ha un'amica che per 50 gli fa le stesse cose, poi fa fatica, si fa fatica a urinare, si è probabilmente un problema di calcoli, mi dica capita 4 volte su 3, direi che è proprio un problema di calcoli, si, direi proprio di si, I problemi di calcolessia? Lo dicevo, i soliti problemi di calcolessia, Bonomelli? Signor Bonomelli? Bonomelli? Massimo Morselli da Moda